La comunicazione di informazioni sulla sicurezza di un farmaco ai pazienti e agli operatori sanitari è obiettivo primario della farmacovigilanza. Uno degli strumenti cardine per informare i pazienti su tutti gli aspetti che riguardano un medicinale, sicurezza compresa, è il foglietto illustrativo. Il foglio illustrativo o foglietto illustrativo comunemente chiamato bugiardino è infatti rivolto ai pazienti. Per legge deve essere presente all'interno della confezione di tutti i medicinali in commercio, sia quelli che necessitano di ricetta medica, quelli senza obbligo di ricetta, sia quelli da banco, che precedentemente siano stati autorizzati all'immissione in commercio da parte di AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco per quanto riguarda i farmaci in Italia oppure dall'EMA per quanto riguarda i farmaci in Europa. Deve contenere tutte le informazioni tratte dalla RCP, ovvero riassunto caratteristiche del prodotto, che risultino necessarie e utili per il paziente. Prima della sua approvazione deve essere opportunamente testato per verificarne leggibilità e può essere modificato a seguito di segnalazioni direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione previa presentazione di domanda di variazione. L'articolo 59 della direttiva 2001 della Comunità Europea afferma che il foglio illustrativo viene approvato dopo un processo di risultati, di consultazioni di gruppi mirati, in modo da assicurare che sia leggibile, chiaro e di facile consultazione. Infatti viene individuato un gruppo di pazienti ai quali viene dato una copia del foglio illustrativo per eseguire un test di usabilità, i quali esamineranno una confezione e un foglio illustrativo di prova e riferiranno se il testo e le informazioni sono comprensibili. Possiamo trovare il foglio illustrativo in diverse forme, cartacee oppure in forma digitale, attraverso il QR code presente sull'etichetta della confezione. Nelle confezioni o flacone dove è presente il QR code si può risalire al foglio illustrativo, con audio nelle principali lingue ufficiali dell'Unione Europea e Islandese, ascoltandone il contenuto nei vari dispositivi elettronici. Questo è molto importante per alcune tipologie di pazienti, quali gli ipovedenti, i non vedenti, portatori di handicap degli arti superiori, oppure comunemente le persone straniere che non conoscono la lingua del paese in cui si trovano. Il foglio illustrativo deve indicare le istruzioni per l'utilizzo del farmaco e a volte sono presenti anche delle iconografie rappresentative per aiutare il paziente a capirne meglio il corretto utilizzo. Il foglio illustrativo comprende tutte le risposte ottenute attraverso gli studi clinici. Uno studio clinico è una sperimentazione relativa a uno o più farmaci sull'uomo. Gli studi clinici sono effettuati su diversi tipi di popolazione a seconda del target a cui è indirizzato un determinato farmaco pediatrico oppure adulto. Deve essere inoltre indicata la modalità di assunzione del farmaco orale, sublinguale, trasdermico, intranasale o endovenosa oppure rettale. Troveremo inoltre gli eventi avversi e le varie percentuali fornite dal database EDRA Vigilance che monitora tutti gli eventi. Per eventi avversi qualsiasi segno o malattia o sintomo sfavorevole o non voluto dal farmaco, raccolte e analizzate attraverso le segnalazioni spontanee fornite da medici, operatori sanitari e persone che utilizzano il farmaco. Le analisi delle segnalazioni ci permette di classificarli a reazioni o effetti indesiderati, effetto non nocivo ma evidenziato in un certo numero di persone. Sono inoltre descritte reazioni avverse, ovvero una risposta dannosa non voluta dal farmaco che si potrebbe avere per interazioni con altri farmaci con determinati alimenti o bevande, abuso o uso non corretto del farmaco, errori di terapia. Generalmente si presenta come un foglio molto lungo dove troveremo il nome commerciale del farmaco, il principio attivo da cui dipenderà la sua azione, la categoria di farmaci appartenente, nome e indirizzo dell'AIC, ovvero nome del titolare delle missioni in commercio e nome e indirizzo della casa farmaceutica. Il target dei pazienti a cui è destinato sono pediatrico o adulto oppure animali, indicazioni terapeutiche, ingredienti, gli eccipienti presenti, esempio glutine, lattosio, tutte queste informazioni sono necessarie per poter permettere al paziente di decidere se voler o poter assumere quel determinato farmaco insieme al proprio medico. Le controindicazioni, le interazioni con altri farmaci, la posologia, dosi e tempi di assunzione del farmaco, l'efficacia, ovvero la capacità di un farmaco di produrre un effetto, quale ad esempio abbassare la pressione sanguigna, la sicurezza, le avvertenze e le precauzioni di impiego, la conservazione per consentirne il miglior risultato, ad esempio ci sono farmaci che necessitano di essere conservati in frigorifero, contenuto della confezione, la scadenza che è molto importante per l'effetto del farmaco e per la sicurezza del paziente e altre informazioni. Poiché ogni farmaco nel corso della sua vita è soggetto a modifiche, il foglio illustrativo è un documento dinamico, ovvero che viene costantemente aggiornato. Infine vorrei sottolineare quanto sia importante che il paziente lega molto attentamente il foglio illustrativo per essere sempre a conoscenza di più informazioni possibili riguardanti la terapia che sta assumendo, per ottenerne il miglior beneficio. Per questo motivo il foglio illustrativo deve essere scritto in modo semplice e chiaro per tutti.